Buon pomeriggio a tutti, è il 28 novembre, sono passate da poco le 2, fra un'ora e un quarto circa inizierà la seduta sui mercati americani, stamattina una seduta sui mercati molto particolare, ma l'obiettivo di questo video che facciamo in diretta è uno degli argomenti più importanti per i trader, in qualunque momento della giornata o della settimana, ovvero ma come si devono analizzare i grafici per avere un'idea il più possibile oggettiva, per quanto utilizzare la parola oggettività nel trading, l'aggettivo oggettività insomma non è una cosa semplice, ma come si deve fare per avere una visione chiara, ecco diciamo così, chiara, non dico oggettiva, cosa devo fare? Innanzitutto devo conoscere, a mio modo di vedere nel migliore dei modi le caratteristiche dello strumento o degli strumenti che fanno parte della watch list delle cose sulle quali normalmente vado a prendere le mie posizioni di trading. Ora, la conoscenza di uno strumento secondo me si sostanzia in due barra tre aspetti fondamentali. Uno, la conoscenza dei prezzi più importanti. Due, la conoscenza del modo con cui lo strumento tende a muoversi e di quelli che possono essere i fattori che vadano a influenzare in positivo o in negativo questi movimenti e soprattutto la conoscenza di analisi grafica applicata allo strumento, che sia uno strumento di tipo azionario, che sia uno strumento di tipo obbligazionario, per esempio per chi fa il Bund o trada singoli titoli obbligazionari, che sia una materia prima, quindi per chi fa l'oro piuttosto che il petrolio, che sia anche una singola azione. La cosa non cambia. Quello che voglio adesso andare a farvi vedere, quindi vi collego uno dei miei schermi, è questo ragionamento che andremo a fare qua. Vediamo se il pc in diretta ci prende tutte le schermate, che ogni tanto ci si... eccolo qua. Condividiamo quindi questo schermo. Come vedete in questo schermo sono 27 pollici, ma se avete anche uno schermo da 24, cambia poco. Se ne avete uno da 16 pollici e siete su un portatile, farete comprensibilmente un po' più di fatica, ma con 200 euro. Ce la possiamo cavare. Qui ho messo i grafici, a mio modo di vedere, più significativi che ho scelto sullo strumento DAX Future. Un grafico orario, un grafico a 15 minuti, un po' più grande, per vedere nell'intraday di trovare degli spunti operativi visibili e chiari, un grafico giornaliero, un grafico a volume profile. Ora 15 giornaliero, volume profile. Quindi in realtà sono due grafici giornalieri, uno a struttura di volume e uno a struttura di candele molto semplici, peraltro con le zone di volume molto evidenziate, e due invece più adatti all'operatività e all'osservazione e di conseguenza anche alle decisioni intraday. Prima di soffermarci però sui grafici vorrei spendere due parole per quanto riguarda ciò che dobbiamo conoscere dello strumento, che non sono soltanto le zone di prezzo, ma sono anche, per esempio, fattore molto importante in questi momenti, l'analisi dei movimenti, della loro qualità e quindi di conseguenza della volatilità. Sulla volatilità dobbiamo andare a spendere qualche parola in più, perché se ne parla ancora poco. Allargo pertanto il grafico giornaliero perché a mio modo di vedere qualunque analisi della volatilità non può che partire dalla volatilità su base giornaliera. Su base giornaliera andiamo pertanto a configurare, questo lo si può fare ogni giorno, ma è cosa buona e giusta farlo il sabato e la domenica, andiamo a configurare quelle che riteniamo essere le linee che accompagnano la tendenza più recente. Fatto ovviamente salvo che un trend di lungo comanda su un trend di breve, ma più andiamo indietro nel tempo più il film tende a essere poco attuale e pertanto soltanto se anche ai giorni nostri, in questo caso sui minimi recenti, troviamo congruenza di passaggi di linee con indicatori visti da tutti, quali ad esempio la media mobile a 200 periodi, quali ad esempio una trend line facilmente tracciabile unendo questi due minimi, ecco allora possiamo essere in presenza di una linea che ha una sua validità e che riportate ai giorni nostri per esempio può suggerirci di fare due tipi di analisi. Una è quella di duplicare questa linea e farla passare attraverso la replica di questi due minimi, quindi cercheremo un paio di massimi significativi che collegati fra di loro possano offrirci un terreno simpatico. Quest'analisi del tutto discrezionale a mio parere va a sostanziarsi qua. Dopodiché traceremo questa linea divisa in due parti e cercheremo di ottenere due canali simili. fin qui. Niente di diverso da quello che il signor Lapidari da anni racconta nel mondo virtuale piuttosto che nel mondo reale. E questa è una mediana. A questo punto la mediana identifica già chiaramente, e non stiamo assolutamente adoperando indicatori di qualsivoglia genere, la mediana identifica chiaramente le zone di prezzo da seguire. E quindi l'analisi grafica ci dice chiaramente che se da un lato questo massimo più alto di questo, ma non ha contatto con la mediana, è stato un campanello di allarme, allo stesso modo questa zona 12.900 è una zona importante, perché questo massimo che già evidenziava degli sforzi a salire e che dal quale poi è partita una correzione, è anche però un massimo visto dal mercato. Quindi 12.920, 13.500 sono 600 punti, che su un arco di prezzo di 13.000 sono all'incirca 600 diviso 13.000. Io parlo con voi, ma è come se fossi da solo a fare le mie valutazioni. Un orizzonte di prezzi del 4,6%. Quindi 12.900, 13.500, 12.900, meno 600 punti, si va a 12.300. Attenzione che questo 12.300, che sarebbe un prezzo importante, va messo poi in relazione ad eventuali tracce nel grafico che ci dicano del passaggio di qualcuno. Andiamo quindi a fare questa semplice sottrazione, stiamo arrotondando perché in realtà il massimo sarebbe 5.36, questa zona sarebbe 9.28, ma cerchiamo di essere sufficientemente generici perché altrimenti un'eccessiva precisione fa sì che poi le zone non vengano toccate in maniera chirurgica da un eventuale passaggio dei prezzi e di conseguenza poi ci si va a lamentare che i supporti non tengono. Quindi se 100 punti a 12.900 si va a 12.300, cosa trovo a 12.300? Trovo sicuramente prima qualche cosa di importante. A 12.600 sul passaggio eventuale dei prezzi intorno alla metà di dicembre, perché le trendline essendo dinamiche spostano anche dinamicamente i confidi del tempo, possiamo andare a individuare che c'è una zona di volume. Vedete, questi sono dei volumi. E allora noi il 12.600 lo mettiamo. Ma il 12.600 che cos'è? È 300 punti sotto il 12.900, che a sua volta dista dal 13.500 600 punti. Quindi possiamo dire che il DAX si muove a scarti di 300 punti. 12.600, 12.300. Troviamo qualcosa a 12.300? Ahimè, c'è ben poco, perché bisogna scendere sotto questa zona di minimi importanti per ritrovare tracce di presenza di lavoro. Quindi un'area intermedia può essere la metà fra 12.600, meno 300, 12.300 e il secondo 12.000 che è 12.150. Qui trovo dei prezzi e questo la dice lunga sul fatto che se da un lato 12.000 è acclarato che sia una zona, 12.180 all'incirca e andiamo poi a 12.300 dove c'è questo gappettino piccolissimo, ma in realtà in parte ancora da chiudere, ecco e andiamo a mettervi delle linee. Ne metteremo un'altra 12.450 circa e ne metteremo un'altra 12.750 che richiama la struttura. In realtà quindi abbiamo 150 punti per volta che su un robot che vale 13.000 sono circa l'1,25% e qui abbiamo fatto un'analisi di prezzi. Andiamo però usciamo un attimo dal grafico giornaliero e non commettiamo l'errore che spesso facciamo che è quello di guardare poi gli indicatori, le divergenze eccetera eccetera, perché quello che conta di più sono i prezzi, le divergenze sono sempre poi un eventuale richiamo, ma dobbiamo cercare di essere poco tecnici e questo detto da uno che sull'indicatore e sulle divergenze ha costruito in buona parte la sua carriera di trader, la potrebbe anche dire lunga, ma è solo un'apparente contraddizione perché poi in realtà quello che conta sono i prezzi. Sempre per rimanere sui prezzi e sui volumi io tendo a crearmi poi un grafico su base settimanale della distribuzione dei volumi e il fatto che non si riesca, anche oggi che è martedì e la settimana è da poco iniziata, a uscire da questa zona vedete che siamo in una strana situazione perché la volatilità sta aumentando, la scorsa settimana abbiamo avuto un'escursione fra minimi e massimi di poco superiore alla precedente, quella precedente ancora 13,5, 13,2, 400 punti, la penultima 13,160, 12,8 e 44, 320 punti, quella che ci siamo lasciati alle spalle 13,200, 12,850, 350 punti. Quindi il DAX si sta muovendo con questi 300, 350, 320 punti, ecco questo 300 comincia a tornare, ma diviso due 300 che cosa fa? Abbiamo detto che fa circa 150, come 320 diviso due fa 160 e quindi siamo fra i 150, 160, 180 punti di scarti e di scatti intermedi. Questo è un numero che può richiamarci qualche cosa? Da un lato lo vedremo con un altro tipo di grafico. Soffermandoci su questo grafico vedete che comunque il punto nodale del mercato è sempre attorno a questa freccettina rossa che sta quasi, il condizionale è d'obbligo, starebbe quasi dentro questa zona, questa è la zona di volumi più rilevanti, più evidenti. Vedete che mentre in questa settimana la stecca rossa contraddistingue il minimo dei volumi importanti, il massimo delle zone di volumi importanti, la stecca rossa è più piccola di questa, questa è più grande, questa va da 12,950 a 13,124, quindi sono 170 punti, anche qui 150, 160, 170, dove ci sono i volumi principali, questa la scansione dei volumi ci dice che i volumi a parità quasi di range si spalmano di più, significa che c'è più distribuzione delle varie escursioni di prezzo e pertanto questo ci fa capire che siamo in una area dove comincia a esserci più volatilità e non ci illuda il fatto che da ieri a oggi siamo dentro 50 punti, la volatilità tende a espandersi, poi può prendere un momento di pausa, ma non è detto poi che questa pausa possa durare molto e allora è cosa buona e giusta andarsi a studiare, per chi non ha voglia lo facciamo sul nostro sito, noi tutti lunedì pubblichiamo dei report con la volatilità, al lunedì scorso vedete che la volatilità giornaliera del DAX è di 177 punti, signori non è poco perché una volatilità pari all'1,35% del ultimo prezzo calcolato sulle chiusure di venerdì, voglio richiamare l'attenzione che quando la volatilità supera l'1% del prezzo comincia a essere poco simpatica e consiglia soprattutto con le dimensioni che hanno raggiunto i contratti future con i rialzi delle borse degli ultimi mesi, consiglia di essere maggiormente prudenti, chi invece non ha voglia di stare su MyTradeClub e di pagare un piccolo abbonamento per avere tutti questi preziosi dati si deve calcolare l'ATR da solo, quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere il grafico giornaliero e ci spariamo dentro un indicatore di volatilità appunto l'Evereggio e Trudeggio. Calcoliamola a 14 giorni, vedete che questa discesa da 13,5 ha portato i grafici a 12.900 e quindi ha fatto, ha creato una correzione del 4%, ma questa correzione del 4% a dimostrazione di quanta leva c'è in giro è andata a sostanziarsi con un aumento della volatilità a 14 sedute di quasi doppio, perché a 14 sedute la volatilità stava a 80 punti, adesso sta a 149,150, anche qui torniamo su questi intervalli. Quindi se questa è una zona mediana di congestione, 13.000, è facile ricavare che un supporto visto da tutti sarà 13.000 meno 150, la volatilità attuale, quindi 12.850, oppure 13.000 più 150, 13.150. Vedete che tutte le volte che siamo comunque andati, e lo si capisce ancora meglio dall'analisi del grafico giornaliero, a cercare di bypassare questo livello, il mercato c'è stato poco, i volumi vedete sono 13.030 più 170, più 170, dai 150 ai 170, 180 punti di volatilità, 13.030 più 150 fa 13.180, più 170 fa 13.200, eccolo qua il 13.200. Il mercato è davvero matematica, il mercato è davvero matematica, e se andiamo a tradarlo usando esclusivamente gli indicatori, possiamo trovarci in condizioni a volte di beccare qualche falso segnale di troppo, e questa non è cosa buona da fare. Stringendo l'osservazione grafica su un time frame più adatta all'intraday, oggi abbiamo la classica giornata, nella quale andremo a analizzare i nostri grafici, tirando delle linee di tendenza che abbiano un senso. Questo a mio parere ha un senso, questo a mio modo di vedere ne ha un altro, anche se sembra antitetica, perché è proprio una linea che questa prende questi massimi ed è giusto che scenda. Questa prende questo minimo importante e prende questo minimo dal quale nella seduta di ieri abbiamo visto una reazione furibonda, ma poi di nuovo delle incertezze. Vedete che l'incrocio fra queste due linee, 13.050, è a mio parere molto molto importante. Io come vedete non sto minimamente, e credo che non avrò voglia di farlo, accenando agli indicatori che pure qui ci sono, che lascio di default per il mio tipo di operatività, che se diventa poi un'operatività di tipo intraday, vado spesso sul future a lavorare su grafici a tic, anziché su grafici a minuti, anche se cambia poco e comunque non va dimenticato che il grafico a tic è riservato a operatori professionisti che ne sappiano. Una cosa che voglio suggerire a tutti i colleghi di visualizzare e osservare con attenzione è, per chi fa intraday su strumenti derivati a leva, non dimenticarsi mai di avere su un grafico orario un'indicazione della volatilità calcolata con leverage e true range. Perché noterete proprio che questi 150, 160, 170 punti, che divisi per 3 fanno una media fra 50, 60 e 62 punti, sulla volatilità calcolata a 5 sedute, sono esattamente 3 volte tanto. Interessante è anche calcolare la volatilità poi a picchi, perché qui vedrete proprio che se 60 è un picco, 120 il suo doppio è un altro picco, e questo aiuta tantissimo a fare un ragionamento dove si prende 0 come valore di volatilità, quest'altro come valore basso, e vedete che tutte le volte che si sopra il valore medio, il mercato strappa e poi torna indietro, strappa e poi torna indietro, strappa e poi torna indietro. Quindi usare leverage e true range in questo modo può aiutare tantissimo nell'individuare i target in base a quello che può essere la volatilità del momento. Se la volatilità su questo gap, anche abbastanza pronunciato, è stata di 120 punti, o la volatilità è andata a superare i massimi precedenti, a toccare quasi il massimo di periodo, non dico che questo è un segnale, compriamo questo gap, ma in termini probabilistici e statistici, qui il mio amico Marco Tosoni avrebbe sicuramente tanto da insegnare a me e a tutti noi, e lo convocheremo. Su un altro argomento di questo tipo, ecco la volatilità calcolata così, quindi 120 punti, che è due terzi della volatilità giornaliera, calcolandola come massimi a 177 punti, che abbiamo visto prima e che si fa prima dire a 180, questo aumenta le probabilità che questo livello sia un livello interessante. E se il minimo è 8,55, mettere a 8,55 che è il minimo, 120 punti di volatilità, porta a 9,75, e vedete che il mercato è andato, 8,55 più 120 punti, li ha raggiunti qua, circa, quindi altri 120 punti, da 9,75 più 120, fa 13.095. raggiunti su questo massimo precedente, più altri 120 punti, 13.215 e vedete che il mercato ha fatto 200 qua, andiamo a vedere, 209. La precisione non è di questo mondo, né tanto meno di chi vi parla, però questo vi può aiutare a capire proprio come si possono fare delle scansioni di zone di prezzo usando anche la volatilità. Ovviamente questo grafico ci fa ricordare che tirare anche una trendline di questo tipo giustifica la resistenza con compressione di volatilità, di volatilità, scusate, quindi attenzione che potrebbe, non dico adesso che stiamo parlando, ma forse franno molto in questa giornata, forse domani, oggi parla il governatore della banca centrale americana Powell, esserci una esplosione di volatilità, comunque un mercato più direzionale. Per chi lavora a strumenti del Forex, ovviamente il discorso non cambia minimamente, ma proprio per nulla. Potrete prendere una vostra watch list di strumenti e lo stesso tipo di analisi lo possiamo andare a fare, ad esempio, sull'euro-dollaro. Aspettiamo che la macchina ci carichi euro-dollaro. E come vedete le stesse zone di volume si possono fare anche per euro-dollaro, ma noi possiamo andare a prendere tranquillamente tutto questo anche direttamente dalla nostra watch list. Quindi voglio l'euro-dollaro daily, me lo metto qua, voglio l'euro-dollaro a 100 tick, è veramente poca roba, ma vedete la volatilità sta aumentando anche sui strumenti valutari. E quindi fare scalping può in certe condizioni essere interessante, 1,18 e 80, media mobile 1,18 e 98, grafico a 5 minuti, sono le ore 14, questo massimo è stato raggiunto alle 14 e 25. Andiamo a vedere se abbiamo di conforto, in circa mezz'ora, euro-dollaro vedete 11 punti, questa è la volatilità che ieri avevamo calcolato in maniera previsionale sull'euro-dollaro, 11 pips di volatilità. Infatti, 1,18 e 80 più 11, 1,18 e 91, vedete che il mercato va in eccesso e su questo eccesso trova i venditori di potenza, cioè quelli che dicono è salito molto in lasso di tempo più breve rispetto alla strada percorsa, lo vendo, quelli che guardano i volumi, quelli che guardano la media mobile, non interessa chi guarda, chi non guarda, chi ha ragione, chi ha torto, ma c'è sicuramente dei ragionamenti. a fare. Termino e allo stesso modo, queste cose si possono fare tranquillamente anche sui titoli azionari, questo è il grafico di intesa, questo è un grafico di intesa a un'ora, vediamo un po', questo è un grafico di intesa a 5 minuti, questo è un grafico di intesa a distribuzione di volume, ecco non ce l'ho, non ce l'ho, perché non ce l'ho sulla base, vediamo se riesco a trovarlo o no, ce l'ho qui. Sul giornaliero anche su intesa si possono fare esattamente le stesse identiche cose, qui è stato applicato un indicatore molto adatto per chi fa, è un super trend, un indicatore molto semplice, adatto per chi fa investimenti azionari di posizione. 1, 2, 3, le onde molto spesso sui titoli azionari hanno una loro importanza e una maniera per fare le onde resta sempre questa. Sono sistemi per poter ragionare sull'individuazione semplice di zone di prezzo, non stiamo assolutamente usando indicatore. Un'altra cosa ancora più semplice per chi magari non ha una piattaforma sofisticata come la ProRealTime, la Sierra Chart, la Visual Trader, la Multishart, quindi piattaforme italiane, piuttosto sezioniere a pagamento, con flussi dati in tempo reale su mercati ufficiali, belle, tecnicamente davvero goduriose, ma anche piuttosto costose per il trading medio, e quindi sono molte persone che possono usare i CFD sulle piattaforme di broker affidabili. Questo è un broker affidabile, non facciamo nomi tanto, il simbolo lo vedete, lo conoscete tutti. Ecco, questo è uno degli schermi su cui guardo metatrader, qui ho il DAX, sia versione che posso mettere, sia versione CFD che replica l'indice, sia versione CFD che mi replica il future, qui c'ho EuroDollaro, Eurostoxx, l'Italia, il Bund, Dow Jones, SP, Nasdaq, sempre bello ruspante, Oro, non male, Dollaro Yen, insomma, posso cambiare tutti i miei time frame e chiedere di poter vedere trend di lungo anche su piattaforme di questo tipo, non cambia assolutamente nulla. Posso farmi tutti i miei studi, io seguo molto molto da vicino il DAX e qui c'è uno studio che ho fatto dove ho replicato l'analisi di questo tipo di operatività dove vedete per esempio, qui giusto per parlare di oscillatori, c'era un interessante divergenza, qui c'era un doppio minimo, qui c'era un lapidari sentiment che si caricava, ma ripeto, sugli indicatori non ho interesse a intrattenervi, quello che mi interessava è fare una scansione di mercato la più attendibile possibile, poi è chiaro che un grafico orario su prezzi efficienti come quelli del broker qui rappresentato, resta sempre molto simile, per non dire quasi del tutto analogo allo stesso grafico orario che si può avere su strumenti di mercati ufficiali. Qui utilizzando la mia dashboard mi sono fatto una watch list di mercati preferiti, la dashboard mi consentirà per esempio premendo il tasto show level di avere tutti i livelli dove la macchina illustra il suo parere operativo anche direttamente qui sopra, pigio show level, li tolgo e li cambio. Un'altra cosa che potete fare con MetaTrader, con lo stesso broker, con un altro broker, con lo stesso numero di conto, con due numeri di conti diversi a secondo delle operatività che vi andate a svolgere, è avere un altro schermo, qui ci sono tutti schemi da 27 pollici con 200 euro si comprano, dove sto facendo girare dei sistemi su un conto demo e dove qui ho un'altra dashboard principalmente orientata su valute ma anche su strumenti che mi interessa osservare in correlazione tipo il traviso di bond, dollar index, Nuova Zelanda contro dollaro, dollaro yen in questo caso sta girandoci un sistema, Australia contro dollaro un cambio aggressivo e volatile, la sterlina contro dollaro, oggi le dichiarazioni di Carney alla sterlina non hanno fatto bene, l'indice della borsa inglese, sterlina bassa, indice che sprinta, quindi la sterlina assolutamente è un driver e viceversa anche il suo indice borsistico, tassi, qui si parla di tassi e qui si parla del dollaro che è comunque sempre legato ai tassi, posso spostarmi su un altro schermo questa piattaforma e rimetterla a posto, posso spostare su un altro schermo questa piattaforma, ritorno ai miei grafici tenendo presente che si chiami Intesa, si chiami DAX, si chiami, prendiamo per esempio sicuramente uno strumento che tutti noi seguiamo, Futsimib non cambia, le analisi devono sempre partire da un plausibile giornaliero. plausibile nel senso che si va a verificare, questo soprattutto nel fine settimana, se le linee che si vanno a tracciare sul grafico hanno un senso e a mio modesto modo di vedere un senso qui, davvero c'è. Il tutto sempre analizzando la volatilità, che bisogna assolutamente conoscere perché è la carta di identità degli strumenti finanziari che andiamo a osservare. Vedete che qui oggi la volatilità è 250 punti, a ieri era 265 punti. Conoscere o attraverso tabelle semplificate che giustificano ampiamente il prezzo che si paga per il servizio che io e Marco forniamo su Method.club, conoscere la volatilità da un minuto a venti giorni o abituarsi a vedersela sui grafici e calcolarsela a mano, cambiando time frame, chiaramente con molta velocità e ci vuole velocità e ci vuole destrezza, da un time frame all'altro è a mio modo di vedere una condizione fondamentale, se non si conosce e non si ha un dialogo con la volatilità è come essere in un paese straniero e non riuscire a capire quello che la gente dice perché non si riesce a parlare la lingua. O ci si comincia a impratichire con la lingua o veramente ci sentiremo persi. E siccome molti di noi si sentono persi di fronte ai mercati, sarà opportuno che tramite gli strumenti che le piattaforme danno, anche servizi di analisi come il nostro danno, ci si possa cominciare a impratichire, a prendere sempre più confidenza con il significato che i mercati hanno, per esempio quello delle correlazioni, ma anche con tutto quello che è nella buona sostanza l'espressione che l'andamento dei prezzi riporta poi sul grafico, che è sempre poi una tradizione, scusatemi, una traduzione, una traduzione dei movimenti dei prezzi. Noi vediamo il grafico, in realtà è una mappa, che non è il territorio, di quello che le persone fanno comprando e vendendo. Buona serata a tutti e buona serata a tutti di nuovo da Giovanni Lapidari.